Robby Facchinetti, il famoso cantante di Poo, è stato presente oggi, 30 gennaio 2022, del programma Dominica In. Nello spazio relativo alla pandemia da Covid-19 si è dimostrato commosso, si è commosso nel ricordare l'amico Stefano Dorazio, che purtroppo morì nel 2020. E vi ricordo che proprio tra lui e Stefano c'era un rapporto di amicizia profonda, un legame azzardo a dire indissolubile e rivedendo le immagini di Dorazio, proprio Robby Facchinetti, padre di Francesco Facchinetti, si è commosso, immagini molto forti, profonde, intense, che hanno creato una certa empatia, se vogliamo, una certa, chiamiamola, sensazione di tristezza, di dispersione proprio da parte di Robby Facchinetti nel ricordare il compianto Stefano Dorazio, un legame importante e forte tra di loro. Insomma, diciamo, per farvela breve, Dorazio ha ricordato la strage di Bergamo, quando vi ricordate bene, c'erano tutte quelle bare, no, che si vedevano, di persone che purtroppo hanno perso la vita per colpa proprio del Covid, del Coronavirus. E' stato un momento abbastanza intenso, a mio avviso, quello di oggi, a domenica in 30 gennaio 2022. Il video termina qua, iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate, un saluto negaro e al prossimo video.